Ciao ragazzi, guardate questa cassa qui prima uscita, l'ultima cassa che ho aperto ieri, guardate, che culo ragazzi, che culo, e siamo qui col far, come potete vedere ragazzi, è un'arma molto forte, molto veloce, con una cadenza che fa impressione, guardate qui ragazzi, è una potenza, e però ovviamente, essendo così, avendo questa cadenza e questo radio così alto, ovviamente di precisione non è il massimo, ragazzi, non è per niente al massimo Quanti ce ne sono qui? Vedete che al massimo potete fare due uccisioni, perché il caricatore subito finisce, quindi questo è un problema E poi ragazzi abbiamo una seconda arma, eccola qui ragazzi, io la amo, quanti cazzo ne sono oggi, e quanto cazzo sono scarsi Come fai a non uccidermi? Ok, no, il ping è perfetto, non so come fanno a non uccidermi, veramente non lo so, ragazzi, guardate come va a puttane il mido, il mido è veramente a puttane, raga, è una cosa assurda C'è qualcuno qui? Che cazzo sei? Sto prendendo 10.000, ok, perfetto Soprattutto, ragazzi, allora, io penso che il calcio sia obbligatorio su quest'arma, sto usando anche il minimo boa, come state vedendo, perché ragazzi, perché aumenta di... Dai, muori, vedete come si alza l'arma, il minimo boa, ragazzi, dopo l'ultimo aggiornamento aumenta, anzi diminuisce Cazzo è il storm, diminuisce il 10% Il rinculo, ragazzi Qui siamo assolutamente questa Boom! Stupendo, ragazzi, io godo quando faccio queste cose Quando c'è da quest'arma si gode Ok, usiamo il purifier No, non posso morire così Ecco, non è stato nessuno Ottimo, ragazzi, un'altra Abbiamo qui sotto Ragazzi Ottimo Eh, vabbè, perfetto così, perfetto così Siamo a 12.6 Non male Ecco, quest'arma si deve imparare, diciamo, si deve capire come usare, perché è veramente incontrollabile a volte No, cazzo, col cecchino Ho fottuto Siamo a 33.46 Ci stanno ammazzando Nel buono senso della parola Ok, ho ucciso questo Come vedete, ragazzi, ogni uccisione bisogna ricaricare Ed è lentissima di caricare Ci mette due secondi circa Ed è molto, molto lenta, purtroppo Ok, questo l'abbiamo ucciso Eh, questo sta lì, nedi glitch Esorcismo Non so cosa sia Comunque, raga È un'arma che se cominciate ad usare E imparate È fenomenale, però È molto, molto strana Ottima Quasi una doppia No, raga, ero ferito Dovevo giocarmela meglio Dovevo fare qualche altra decisione con questa mazza, raga Perché Vi vedo che è stupendo Stupendo usarla E questa è qui Boom Si è scivola No, ragazzi, non scivola, non scivola, non scivola, sto cazzo, questo cazzo, questi bug Merdone Il boa è un po' più lento, ragazzi, nel Nel, diciamo, come estrazione Però, ragazzi, è bellissimo Ah, c'è un'HCD Un pochino più lento del Mirino Hall e il Mirino Reflex Ovviamente del Mirino Senza Mirino, però, raga Cazzo Raga Aumento e diminuisce in culo Questa è una manna dal cielo per quest'anno Perché veramente va La puttana, non sono morto, non so come Ah, raga, si è buggato pure Stavo facendo la mia mazzarella Mori, dai Che livello 12, ottimo Vi consiglio, ovviamente, se riuscite a trovarla Di usare anche il caricatore, raga Aumentato Ho il caricatore rapido Perché Ha bisogno Ma assolutamente ha bisogno Il caricatore Preso in testa Abbiamo il purifier Preso anche questo Possiamo usare il purifier, allora Sono tutti in casa No, raga Ottimo, così, ragazzi Ottimo, le stragi Bello, ragazzi Ottimo, così, ragazzi Ottimo Abbiamo finito il purifier Che, si è buggato? Ragazzi, si è buggato? Che cazzo è successo, ragazzi? Porca aveva pensato che si fosse bagare, invece no C'è qualcuno lì sulla sinistra Ok, si stiamo giù qui Bellissimo questo No, 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 no Madono, 92, 92, mi ho recuperato, grandissimo recuperato 28,15 Ragazzi, doveva 94 Mamma mia, ragazzi, 9,2 No, no, quasi No, no, quasi 95, raga Ragazzi, ragazzi No, raga, no, 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 no 97, 97 Sto marello troppo alto Buono, buon amico Via Grandissima vittoria, ragazzi Bellissima rimonta 28,17 Migliore nella partita 3245 punti Non detto Non sono male Bene così Ragazzi, che dirvi Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Questa arma, ragazzi È molto forte Ma non è overpowered Come alcuni dicono Basta usarla comunque E praticarla Usare bene Diciamo la classe E si può veramente usare Perché è fortissima Io come una classe Ho usato Ve la faccio vedere subito Mino Boatree Come ho detto Calcio Calcio regolabile Alto calibro Sesto senso Prestigiatore Spericolato È la mia cara MVP E vabbè ragazzi Ci vediamo al prossimo video Falò